Allora, siamo al voto disciplina dopo questa finale. Per me voto disciplina, diciamo, il 10 è qualcosa di ideale, quindi io do un 9 perché doveva essere combattuta l'estate, secondo me è rimasta nei limiti di una finale come deve essere giocata, sicché io 9 per me no. Quindi comunque un 9 è un voto abbastanza alto. Sì, insomma, un po' deciso, un po' deciso, ma comunque ragazzi era una partita di caccia agonistica. Infatti, era una finale, quindi un po' più timore. Succede, succede, quindi anche per me è 9. Quindi vi siete scambiati i 9, voto all'arbitro, onestamente, dai, onesto. Non lo do per rispetto, vabbè. Ok, ci prendiamo questo 2, dai.